bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi cosa facciamo aspettate rifaccio perché il microfono era io ero dietro la scatola e tutto quanto aspettate ok ragazzi passiamo subito all'apertura classica praticamente come intento vi faccio vedere bene la scatola guardate broken spear of leonidas e se giriamo effettivamente potete vedere che c'è anche l'appoggino 60 centimetri niente di strano di tutto il resto però apriamola perché proprio non c'è non vedo l'ora con tranquillità proprio tanto noi ci facciamo una chiacchierata adesso a brevissimo inizierà anche la serie quindi non vi preoccupate sto aprendo sto aprendo adesso io proporrei proporrei questo vediamo è opla ragazzi eccomi qui ovviamente vedete solo la barba ciao sarà la barba di ale allora parte tutto ragazzi apriamo immediatamente perché voglio vedere che cavolo c'è qua dentro spero che non imploda tutto wow attenzione c'è più niente niente attenzione vediamo cosa c'è dentro ha il foglio del montaggio ragazzi perché potrebbe essere veramente difficile come potete vedere bisogna incastrare il bastone sulla vaffan brodo allora eccoci qua ragazzi ok voi direte ale non vedo un cacchio avete ragione perché c'è anche la plastico ovviamente davanti togliamo anche questa a questo punto prendiamo ma com'è fatta bene no raga ma pesa anche una cifra questa roba è fatta bene di brutto allora adesso cerco di comunque di farvi vedere per ben benino vedete è fatta molto bene ragazzi è veramente bella ma poi è massiccia è qualcosa di clamoroso è è massiccia proprio guardate che bello no no è fatta bene raga altro che robe è veramente fatta bene e questa è solo una questa è solo una parte sbam quest'arma sarà molto importante all'interno del gioco ragazzi molto importante all'interno del gioco ma non vi dico nient'altro e andiamo a fare questa operazione difficilissima perché può essere difficile ragazzi e io veramente magari non lo so ma incastrati è effettivamente difficile davvero cioè nel senso è fatta bene proprio perché una volta che la incastri non non la togli più sono tornato ed ecco qui la lancia guardate quanto occupa tutta la schermata beh dai pensavo peggio pensavo occupasse di più invece comunque si fa praticamente tutto lo la mensolina poi ovvio che probabilmente l'appenderò magari sotto il quadro fa la sua porca figura e poi abbiamo ragazzi l'appoggino quindi se non vogliamo magari star lì a appenderla al muro c'è l'appoggino veramente veramente bella ragazzi veramente veramente bella non so cos'altro dire ragazzi vi aspetto tutti per la serie è fatta veramente molto bene guardate anche l'incastro poi non si nota nemmeno guardate perché si si unisce abbastanza bene si vede che comunque c'è l'incastrino però guardate che spettacolo cioè è fatta è fatta bene ragazzi non ho assolutamente parole poi ovvio che adesso magari c'è il blu dello schermo ma se la metto qui vedete che è fatta abbastanza bene chiara è bello bello porca miseria e dopo l'unboxing di questa lancia spezzata di leonida io vi aspetto per la serie e non ci vediamo nel prossimo video bella poah 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 z lefty Grazie a tutti